anche oggi momento pedana la mia bella mezz'oretta di pedana ho preso l'ultimo gli ultimi 20 ml di olibox a stomaco vuoto e dopo la pedana perché sono le sei ma sono le sei sei e mezzo per le sette ceniamo almeno io mamma e felicità ceniamo mezz'ora di allenamento ciao 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 che è questo? Comunque Allora sono le nove e mezzo, io ho finito tutto, sto aspettando che arriva Sabia a mangiare, a cenare, ho già, devo solo azionare la lavastoviglie, ho tirato già la scopina per terra, dopo la mangio, adesso, noi vi auguriamo una buonanotte, che cosa? Ma muoviti, vai di là, ci vediamo domani con un altro video, vi auguriamo la buonanotte, qui fa caldo, buonanotte a tutti, ciao! 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 Buongiorno e buon venerdì, oggi venerdì 18 ottobre, io sono da pesare, ho pesato mezzo chilo di farina di semola, 250 di semola normale, 250 di semola integrale, e devo fare la pasta, anche la faccio subito, infatti ho messo a bollire l'acqua per sale che dopo va a lavorare, ho messo a fare il pomodorino, perché oggi ho 80 grammi di pasta col pomodoro e 150 di pesce di orata o merluzzo, io ho preso merluzzo con il finocchio, quindi ho già messo a cuocere il pesce. Ora faccio la pasta, sono uscita a comprare il pesce, e a prendere il pane, e a prendere le noci, che ieri sera avevo 20 grammi di noci, cioè avevamo 20 grammi di noci, e quelli che avevo, avevano cacciato l'olio, e non li ho mangiati, ho mangiato mezzamila. Ok. Così, si fa il pesce nel frattempo. Il pomodoro, bolle l'acqua e il sabo e l'olio. Devo andare per là e ho a prendere la semola integrale per tenere in più. E poi c'è quanto, vedo un bel cucchielone di acqua calma. E vi faccio vedere cosa mi ha portato Vali. Allora Vali mi ha portato, che un amico suo li stava raccogliendo, questa cassetta bella piena di pomodori rossi e verdi, buonissimi. Li ho già usati, sono veramente buoni. Questi sono i ragazzi che ci piacciono. E poi ha portato, questi li ha comperati, i cartoni. Perché voglio andare due, quattro, sei, otto, dici. Perché voglio andare a mettere tutti i bicchieri che non uso, tutte le cose le porto giù al box. Quindi per quando vado a prendere i due mobili. Quindi adesso questi dove li metto? Ora vedo un po'. Allora ragazzi, faccio questo top e flop veloce. Perché li voglio buttare che sono ingombranti. Vabbè, faccia azzurra, fiore di luna, per me è ottimo. Vi da acqua micellare buono, ma mi piace più l'altro all'aloe. Questo per me è il top dei top, è buonissimo. Infatti ho detto al supermercato di ordinarlo. Perché non vado sino a risparmio casa a prenderlo. Rio Gel Piatti, questo salvia officinale. Non mi è piaciuto, proprio il profumo non mi è piaciuto. Quindi per me è un flop. Il Monamour, vabbè, il classico blu mare, però nel bottiglione grande è il top. Questo è il soft che ho finito, che ne avevo ancora un po'. È un prodotto buono, però adesso vado di alga. È molto buono il soft. E vabbè, bagnoschiuma Dermomed. Questi sono buonissimi, non li usiamo proprio tanto. Ve ne faccio vedere uno, ma gli altri li ho tutti buttati. Quindi, bagnoschiuma Dermomed, ottimi. Butto tutto qui, così Miki dopo lasciando. Perché qua si è annuvolato, guardate. No, non c'è tendura. Così si è annuvolato un po'. Fa caldo. Però si è annuvolato. Preparo il pranzo e ci vediamo dopo. Allora ragazze, la bambina dorme. Sono le 16. Ho messo a fare gli spinaci. Sì, ma io voglio capire Alice dov'è. Ma Alice dove sta? C'è una zanzara in casa. È sulla sede. Sì. C'è una zanzara in casa. Mi sta facendo nuova. Nuova. Io adesso faccio mezz'ora di pedana. Ho messo a fare gli spinaci perché stasera la carne di puledro con gli spinaci le è salpano. e quindi quando finisco di farlo pedale mi faccio una doccia. E ceno. Cerco di cenare presto. Non c'è il flash da questo lato. Non capisco perché. Vabbè. Cerco di cenare presto così anche il metabolismo accelera. Oddio. Io mamma e la bambina non è che ceniamo tardi. Beh anche quando stanno in casa i ragazzi convali. non ceniamo mai tardi. Però non aspettiamo mai i ragazzi e balli quando stanno lavorando che rientrano tardi. Noi ceniamo sempre prima alle sette e mezzo. Vole sapete. Però se riesco a cenare ancora prima. Niente. Non si vede. Vabbè ci vediamo tra un po'. E mi guardo. Mamma di là io di qua. Ho passato dal cielo le repliche che fanno sul 25 che ci piacciono. Noi abbiamo visto la prima puntata di Don Matteo. Che poi sarebbe Don Massimo adesso. Però bellissimo. Non ho visto Paolo del Debbio per vedere Don Matteo. Bellissimo. Allora la mia cena. Una fettina di carne e mezzo. Quella dopo la vado a dividere. Perché è 120. Allora così è 140 grammi. Dopo taglio metà è 120. 80 di pane al grano saraceno. E le bietoline. Pensavo di aver preso gli spinaci. Invece ho preso le foglioline di bietola piccola. L'esse. Questa è per mamma e per felicita. Vabbè è tanta. Però poi la divido e la mangiano i ragazzi dopo. Io vi auguro una buona cena. Doccia fatta. Pedana fatta. Doccia fatta. Adesso cino. Sono le 7 e 10. Mi siedo e cino. Buon appetito anche a voi. Buon appetito. Ciao.